Non è più rinviabile l'avvio di una forte iniziativa unitaria al di sopra degli schieramenti politici da parte delle istituzioni locali, delle forze parlamentari nazionali e regionali messinesi, delle organizzazioni sociali e professionali per l'immediata apertura di un tavolo autorevole presso il Ministero dei Trasporti alla presenza dello stesso Ministro Toninelli. Un tavolo che possa superare il pericolosissimo impasse istituzionale oggi esistente sull'autorità di sistema del Tirreno Meridionale, di cui Messina e Milazzo fanno ancora parte. Così il segretario generale della CGL Messina, Giovanni Mastroieni, è intervenuto sul dibattito relativo alla costituzione dell'autorità portuale di sistema. Bisogna prendere atto di due fatti decisivi, evidenza Mastroieni. Il primo, la rinuncia nell'aprile del 2017 del governatore Crocetta a nominare i due componenti della Sicilia nel Consiglio di Amministrazione dell'autorità di sistema Gioia Tauro-Messina. Il secondo, la scelta della Regione Calabria nell'individuazione delle zesse di sua competenza di escludere la provincia di Messina in quella legata alla portualità di Gioia Tauro. Il tavolo nazionale al Ministero dei Trasporti, che va immediatamente aperto, sottolinea Mastroieni, deve avere come primo obiettivo l'ulteriore proroga prevista dalla legge del Rio dell'odierna durità portuale Messina-Milazzo per il periodo massimo previsto dalla normativa. Il secondo obiettivo è quello di realizzare una battaglia che veda protagonista unitariamente tutte le rappresentanze politiche e sociali del nostro territorio per inserire Messina come portocor della rete europea per arrivare alla realizzazione della sedicesima autorità di sistema portuale italiana Messina-Milazzo attraverso una serie di interventi legislativi nazionali.